Il terremoto è un dramma evidentemente, però è anche l'occasione per sperimentare tecniche di costruzione che nel tempo potranno essere l'alimento di quel rilancio socio-economico di cui tutti ora parlano. La ricostruzione fisica delle case deve andare di pari passo con la rigenerazione sociale ed economica, la rivitalizzazione delle nostre aree interne. Il fatto che Unicam, l'Università di Camerino, Enea e un gruppo di professionisti guidati dagli ordini professionali possano nel frattempo che si ricostruiscono le case anche trovare il modo per capire quali sono le tecniche migliori per dare sicurezza anche nel tempo all'attività di ricostruzione è sicuramente una di quelle piste su cui investire fortemente per far sì che il cratere sia un grande patrimonio scientifico e anche di stimolo economico per coloro i quali finita la ricostruzione, speriamo presto, possano essere comunque abitanti di una realtà in cui scienza, formazione, lavoro, professioni trovano un ambiente ideale in cui vivere.